Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi Benvenuti in un nuovo video, tac, o così l'ho voluto fare io questo video sarà molto, diciamo, sperimentare perché come vedete già l'inquadratura è un po' diversa i microfoni li ho messi veramente, veramente, veramente vicini alla bocca in modo che il suono possa essere bello forte, possa eliminare un po' di suoni di sottofondo e mi sta piacendo tantissimo per ora, anche il fatto che posso andare a destra e a sinistra, così non so se vi piatto l'effetto questo video è stato fatto per la prima volta da ASMR Darling che è una ragazza che penso conosciate un po' tutti forse anche quella che ha più iscritti in assoluto, quindi di un canale ASMR ovviamente e l'ha fatto circa due anni fa e io ho avuto questo, diciamo, quindi il canale dopo a tutta lei non ho inventato io assolutamente questo format ma volevo renderlo un tag, 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 tag questo perché? perché trovo che i tag, soprattutto in una community diciamo abbastanza piccolina come quella italiana quindi non disperdendosi all'estero facciano unire molto la community possono aiutare a far scomprire i canali un po' nuovi aiutare a farsi un po' di pubblicità a vicenda e quindi prima di spiegarvi cosa è questo video ecco le tre persone che voglio attaccare e vi dico anche il perché la prima è Carlotta ASMR ex le note del silenzio però sono molto contenta che abbia cambiato nome perché manca scommendolo a cambiare e la taggo perché è il mio canale preferito in assoluto italiano, estero, tutto e questo video diciamo che è leggermente più lungo rispetto ai soliti quindi è come un protesto per taggarla e chiedere un video lungo vabbè, a parte tutto l'adoro non vedo l'ora di vedere cosa si inventerà il secondo canale che taggo è Giulia S. ASMR e mando tutte un bacione e lei la taggo perché è veramente molto originale trovo che il suo canale debba ancora crescer tanto e abbiamo molte potenzialità e la trovo molto brava ha una voce dolcissima lei è dolcissima e anche lei è molto 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 creativa quindi non vedo l'ora di vedere come sarà il suo video e infine taggo Black Moon Black Moon Black Moon Black Moon ASMR o Velia lei è una ragazza veramente anche lei molto creativa ultimamente sto guardando tantissimo il suo canale e appunto vorrei che lo facessi anche lei anche perché di solito lei fa video un po' più corti quindi anche qui una scusa per chiedere un video un po' più lungo e anche una scusa per farvi un po' pubblicità a questi tre canali ci sono tanti altri che avete voluto taggare ma ho voluto taggare anche canali diciamo un po' più piccoli per fare un po' di pubblicità ok quindi si sentono un po' i mouse sound ditemi se vi piace ok allora in cosa consiste questo video? questo video consiste in fare i trigger da A alla Z quindi in tutto saranno 21 trigger sì perché è l'alfabeto italiano quindi è un tag in cui ogni persona diciamo si inventerà un oggetto un trigger per ogni letter secondo me può venire veramente una cosa carina e spero davvero che vada avanti questo tag perché ci tengo veramente tanto a unire gli accommuniti e trovo che sia appunto una cosa che può non so, obbiettare altri canali molto carina secondo me ok quindi da qualche parte ho il mio quadernino qui e vi dicevo che ho un mito sperimentale perché appunto questa inquadratura questo audio è molto vicino e poi ci saranno delle inquadrature anche diverse quindi ditemi se vi piacerà se preferite un'inquadratura fissa sempre quella o se vi piace che ogni tanto l'inquadratura cambi ok infine se questo video vi piacerà se questa cosa vi piacerà non dimenticate di cliccare e mi piace cominciamo il primo trigger con cui cominciamo subito le inquadrature diverse è l'acqua come acqua scelto? questo tonico acqua distillata alle rose perché lo uso in piace e allora lo uso in piace e 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 il secondo trigger il trigger con la B qui è il bianchetto l'avete amato in tanti durante il video della cartoleria che se non avete anche visto vi lascio qui o qui non mi ricordo e quindi voglio riproporvelo assolutamente pronti dalla bianchetto pericc che com'è che più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il trigger con la G sono le carte da gioco che secondo me avevo messo solo in un video, non mi ricordo, comunque le ho usate molto poco, ma come trigger mi piace tanto. E vorrei farci anche un roleplay a riguardo, stay tuned. Grazie a tutti. 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 Comunque lo sfrutteremo di più, eh. Non vi preoccupate. E allora, con la H mi devo avvicinare, con l'AT mi devo avvicinare perché per la H diciamo che ho preso ispirazione da, speriamo, ho preso ispirazione da Anibi ASMR e che è un canale molto famoso, che ha un milione di iscritti e posto, che è famoso per fare principalmente video di eating, di cose edibili, tipo borse, mangiabili, insomma tipo il mio video della spazzola, no? Come trovo una spazzola, come si dice, commestibile, e si mangia tutte cose commestibili, molto pomosa per quello, e lei, le sue introduzioni le fa tutte, così, e lo faccio subito provare. Le fa tutte con, dicendo hello. Infatti la prossima lettera è la H, è l'unica lettera in cui ho utilizzato una parola estranita, perché non esiste una parola italiana con la H. e quindi ho voluto, diciamo, provare questo trigger, ma tutto il caudetto va lei davvero, però lo trovo molto bello. Hello. 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 dopo la h c'è la i e la i vuol dire inaudible e funziona anche in italiano perchè si traduce con inaudibile inaudibile questi faccio un po' di inaudibile più santo che se non ne vuole permettere in un uomini che sarà più di alto che altro però spero davvero che la not anschacchino e adesso a basso al livello, prima di parte di una quale cosa allora l... e se l'accorpare sarà intesa la M sarà delle oscure io ho chissato per un minuto che ci rappresenta la N sarà il nodo delle noggiori la O sarà una O di Oggione un particolare olio per i capelli io non ho arrivato a parlare alla fine di tutto perchè l'olio impugnerà tantissimo la B la B è deciso di farvi sentire un po' di suono della piazza quindi carerà tutto il buio e sentirete molto suono della piazza che sta tantissimo la Q la Q è il guaterno il guernino quelli in cui ci sono tutti si chiamano secchi quelle piazza che si gira ne fanno due fanno una parte rosa e una parte argente ho fatto un bel club secondo me è un'altra cosa molto carina la R è una rosa mi viene da prenderla che non penso che non mi ha fatto sentire non mi ricordo sinceramente la S io bella voglio smotto ma penso farlo un altro testo perchè la lo smotto non mi convince non saprei per la D per la D per la D ho fatto un po' di tracing con la scritta YouTube della scatola che viene arrivata a mille la la faremo le unghie la la faremo il modificio slicker e la la faremo un po' di zack 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 quindi se avrete capito tutto avrete capito che il prossimo trigger è il lucida lucida labbra questo sono l'avrete già sentito nel video quello dei trigger invisibili nel video quello dei trigger invisibili e fun fact diciamo così io questo rossetto io questo l'ultima però l'ho fatto solo per il canale hanno comprato dai cinesi ed è made in China quindi e può contenere tipo di tutto è una roba che vi dico solo che il primo ingrediente è la paraffina ragazzi non c'è ragazzi ha un linchie che fa paura e si sente e praticamente per fare il suono di mettermi il mio lucida labbra l'ho proprio messo no? e ragazzi giuro che mi stavano proteggere proprio all'appena appoggiato mi sembra non bruciando le labbra non saporerai una cosa ragazzi cioè che ma Sabe che il mio palito a 20% sta sempre? Andiamo avanti, se no qui il video non finisce più, mai più, tipo. Allora, con la M ho fatto appunto delle maschere viso, che sono appunto maschere di quelle in tessuto. Vi ho fatto sentire un po' il suono delle bustine. Ok. 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 con la N abbiamo un trigger che ha un suono simile a uno che ho già portato una volta però è un pochino bello l'avessi scoperto prima non avrei comprato le palline in legno infatti stiamo parlando delle nozzuole e anche qui sono molto 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 soddisfatta dell'inquadratura che è venuta quindi ditemi e ditemi anche se vi piacciono tra l'altro queste nozzuole che vi farò vedere sarà guardate da me stessa medesima su in collina montagna sotto un albero di appunto sotto un nozzuolo sono buonissime le puoi tostare mettere tipo nel gelato pazzesco troppo buone e quando riesco a raccogliere qualcosa dagli alberi così mi sento benissimo sopra contatto con la natura le sensazioni più belle che ci possono essere che ci sono Sì Con la O abbiamo questo olio per capelli della Vito Che tra l'altro è molto buono, vi consiglio È proprio fatto per i capelli super super secchi Molto decolorati tipo i miei Mi ho messo solo sulle punte, 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 punte Molto buono Ve lo faccio vendire sulle mani Ok, quindi procediamo con l'olio Spruzzo Trevare il mondo Spruzzo iscriviti al canale Questa è la prima volta che si vanno a prendere un po' di più 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 di più. e ascoltare uno o due minuti di piozza non è semplicemente sembrerà che stia venendo a piovere e voglio mettervi anche l'effetto qui e spero di piatto passiamo molto 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 veloce ok ok, eccoci, abbiamo già finito sta finendo e con la Q hai scelto questo guadernino hai scelto anche qui ti farò un'inquadratura diversa questo per chi fosse interessato proprio sta tiger però c'è pieno in giro dentro ha delle righe orribili quindi se dovete usarlo per scriverci non lo prendete non lo prendete adesso prendete Sì Grazie a tutti. Sì 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 Con la R Fa sempre fatica a sgrugliarmi la R R Non ci riesco Ho scelto questa splendida rosa pinta in tessuto che fa un suono super bello un po' di sottotitoli Alla prossima E' fatto molto bene comunque Ecco vorrei sapere da voi Se vi piace Se vi piace ultimamente Se vi piace ultimamente Stia differenziando un po' con i video Stia cercando di evolvere Ok Con la S Facciamo un po' di So che non è amatissimo da tutti E anche a me fa impazzire Però Ogni tanto Anche perché ho deciso di non includerlo più Nei miei news al mazzanzo Perché ne ho talmente tanti altri Che per me non ha senso E' un po' di E' un po' di E' un po' di Tu ti 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 skr 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 è appena este ok con la D ho scelto di fare un po' di tracing chiamate sempre tutti tanto me lo chiedete tanto 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 ho deciso di fare appunto un po' di tracing su un oggettino che vedete lì facendo un angolissimo che è la scatola in cui mi è arrivata la diciamo la targhetta di youtube per i cittadini iscritti quindi fare la tracing sulla scritta youtube così tanto per non 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 Grazie a tutti. 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 Nell'inautical mi sono sbagliata, con la B non ci sono i visual trigger, ma il ventaglio... Si sta messo si toccendo, povero. Non l'ho mai fatto, ma il ventaglio distrutto è morbidissimo. Ok, mi avvicino. Giuro, è morbido. E che va ad accarezzarti il viso. Il viso. Il viso. Il viso. Il viso. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Vorrei farlo un po' più veloce, però. C'è un po'. C'è un po' di più. 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 E soffio soffio soffio. Via. C'è un po' di più. L'ultimo. Vediamo di prendere tanta 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 roba. Prendo. e zac-zac quindi quindi penso sia giunta l'ora di abbassare le luci e augurarvi una buona notte buona notte good night sweet dreams buenas notches dolce sueños buona notte buon noii 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 cali s p e a Grazie